La squadra parte domani pomeriggio alla volta di Savona, ma farà una tappa a Forte dei Marmi, unico campo reperito per disputare l'ultimo allenamento di rifinitura, visto che Alto Pascio è occupato e Stadio e Acquedotto sono allagati. Dunque la tradizionale conferenza stampa del venerdì, in diretta sul canale 89 e su www.dilucca.it, è anticipata alle 12.15. Intanto stamattina si è aggregato al gruppo Biagio Pagano l'esterno d'attacco di grande esperienza, 248 presenze in Serie B e 15 in Serie A con le maglie di Torino ed Atalanta, prelevato dal Catanzaro. Il giocatore ha partecipato al suo primo allenamento in rosso-nero, disputato a porte chiuse sull'assintetico di Alto Pascio. Eccolo in azione, è apparso in buone condizioni e dunque in grado di giocare sin da subito. Il suo tesseramento, così come quello di Dennis Capinello, che però sarà disponibile fra una decina di giorni, sono stati depositati in Lega. Il transfer è atteso a ore e quindi in tempo per la gala di Savona. Infine la Lega ha stilato il calendario della quarta giornata di ritorno e la Lucchese giocherà ancora di sabato, il 7 febbraio, alle 17 al Mannucci di Pontedera, che proprio oggi ha ceduto a titolo definitivo all'Ascoli il suo capitano Gigio Grassi. Per la squadra di indiani si tratta di una rinuncia molto sofferta. Il trequartista Garfagnino ha disputato in Granata due stagioni e mezzo ad altissimo livello, con 7-8 presenze e 45 gol. Sostituirlo adesso per Paolo Giovannini sarà davvero una mission impossible.